Roberta Vinci, da poco più di un mese si è ritirata dall'attività agonistica. Oggi è un simbolo per questi ragazzi e ragazzine. Che tipo di emozione prova nel vedere tutti questi giovani che in lei vedono un riferimento molto importante per la loro carriera? Beh, è bello essere qui, bello vedere tanti bambini con una racchetta in mano, tanto entusiasmo. Sono molto contenta di essere qui, di giocare con loro, di poter parlare con loro. Mi rivedo un po' io ragazzina, anche io sono stata ai centri estivi federali e certo, come dici tu, sono un esempio. Mi fa piacere, spero di poter dare consigli e di essere un esempio sicuramente positivo per il tennis italiano. E il futuro dell'Atleta Vinci è proprio questo? Beh, ancora, diciamo, sono ancora un po' in vacanza, come ho detto più volte. Poi sul futuro devo un attimo capire che cosa vorrò fare, però sicuramente sempre nell'ambito tennistico. Quindi aiutare i ragazzini è una cosa che mi ispira molto. Qualcuno dice che il suo ritiro dalle scene è stato troppo in anticipo e lei avrebbe potuto ancora dare del filo da torcere a tante sue colleghe? Beh, tutti possono pensare tutto, però quello che ho provato io è quello che ho deciso. Nel senso che tante volte mi sono fatta grandi discorsi dentro di me e mi sono resa conto di essere un pochettino arrivata, come nel gergo si può dire. E il tennis mi ha dato tanto, ho dato tanto al tennis, però fisicamente e mentalmente alla fine facevo molta fatica. Quindi era giusto stoppare e cambiare un pochettino pagina di una vita. Oggi la visita qui in Abruzzo, come le è apparso questo centro federale di Castel di Sangro? Beh, bello, c'ero già venuta un po' di anni fa e bello, bellissimo, tanti bambini come ho detto prima, bellissimo vederli con una racchettina in mano, con tanto entusiasmo, tanto caldo anche, però è bello, c'è vita ed è molto bello. Visto che siamo qui a Castel di Sangro e che lei ha monitorato tutta la situazione a livello nazionale, come giudica questo centro federale bruzzese e soprattutto questa grande affluenza dovuta sicuramente anche alla bravura dei nostri istruttori? Allora, il centro federale di Castel di Sangro è il fiore e l'occhiello della Federazione Italiana Tennis e dell'intero sistema nazionale. 16 campi meravigliosi in una location fantastica, due campi coperti, speriamo che ce ne siano degli altri con il passare degli anni, perché riteniamo che questo centro debba vivere la sua attività non solo durante il periodo estivo, ma 365 giorni l'anno. È un centro di qualità non solo per le strutture, ma perché le persone che ci lavorano, dal direttore Vittorio Di Quinzio, piuttosto che dal direttore tecnico Rocco Marinuzzi e da tutto lo staff, riescono a valorizzarlo appieno. Quindi non solo c'è una qualità strutturale, ma c'è una qualità degli uomini molto 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 importante. Questa grande sinergia sta portando ad avere risultati quantitativi e qualitativi. Quantitativi perché abbiamo quasi ogni settimana circa 250 bambini che provengono da tutta Italia, quest'anno addirittura anche dall'Irlanda, c'è la nazionale irlandese questa settimana, e questa struttura può creare dei presupposti incredibili per un futuro sempre migliore per il tennis italiano. È un momento importante per noi, ci fa piacere avere qui come ospite Roberta, anche se ha appena dato l'addio al tennis, è la prima uscita che fa da quando ha dato l'addio al tennis. Sono momenti importanti, abbiamo la fortuna di ospitarne tanti di campioni durante l'estate e oggi siamo onorati di avere qui con noi Roberta. Tanti ragazzi che spaziano dai più piccoli ai più grandi, quanti sono effettivamente? Quest'anno abbiamo avuto un grandissimo boom a Castel di Sangro, siamo passati dalle circa mille presenze dell'anno scorso alle 1.400 di quest'anno, sei corsi di formazione dell'Istituto Superiore Lombardi che si svolgono a Castel di Sangro, abbiamo tre tornei kinder, abbiamo tre raduni tecnici e poi il centro normale. La media è di 200 ragazzini a settimana per otto settimane. Perché è considerato uno dei centri federali più importanti nel panorama nazionale? Sicuramente qui a Castel di Sangro abbiamo la fortuna di poter sperimentare molto. Diciamo che è un po' il centro sperimentale anche per gli altri centri e sicuramente la location, la disponibilità che c'è qui a Castel di Sangro rende la possibilità di far tutto al meglio.